Dunque, oggi ci occupiamo di uno dei due argomenti di teoria che fanno parte del programma del corso, su cui verterà una delle domandine da due punti all'esame, e in particolare parliamo del sistema di numerazione binario usato dai calcolatori, cercando di apprendere le cose più essenziali, più di base, che ci permettono di capire come funziona l'aritmetica dei calcolatori e imparare a fare qualche piccolo calcolino. Ricordiamo che quando parliamo di sistema di numerazione, noi siamo già abituati a utilizzare un sistema fin dall'asilo, dalle scuole elementari, che è il sistema in base 10, che è un sistema di numerazione, ci hanno un segnato posizionale in cui il valore di una cifra dipende dalla sua posizione. Per cui ad esempio questo 2 e questo 2 per noi hanno valore diverso rispettivamente di unità o di centinaia perché si trovano in posizioni diverse all'interno dell'espressione del numero. Questo sistema con cui calcoliamo, noi, non è l'unico possibile, ma la semantica e il significato di questo sistema si riassume in questa formula, in cui dice che il valore di un numero A espresso in una base B, vista per la base, e questo A è composto da tante cifre a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, immaginiamo il 252 dell'esempio precedente, della slide precedente, questo 2 sarebbe a 0, il 5 sarebbe a 1 e l'altro 2 sarebbe a 2. Noi scriviamo un numero con una sequenza di cifre. Se chiamiamo queste cifre A con i e gli indici sono apposti contando da destra verso sinistra partendo da 0, allora ricaviamo che il valore del numero che stiamo rappresentando non è altro che la somma degli A con i moltiplicati per le potenze della base. quindi questo A con 0 viene moltiplicato per 10 alla 0, quindi sono unità, due unità, questo A con 1 viene moltiplicato per 10 alla 1 e quindi sono 5 decine e questo A con 2 viene moltiplicato per 10 alla seconda e quindi sono due centinaia. Cioè ciò che dà il valore al numero è sì il valore della cifra con i, sia il valore della sua posizione iesima all'interno del numero e la posizione determina una potenza successiva del 10, unità, decine, centinaia, migliaia eccetera. Questo è quello che istintivamente sappiamo già fare, ci hanno insegnato a contare così. E quindi tutto ciò che sappiamo sull'aritmetica dei numeri decimali discende da questa formula. Ok? Abbiamo scelto, qualcuno per noi centinaia di anni fa ha scelto di rappresentare il numero in questa formula e il valore di un numero, il valore vero di un numero si ricava dalla sua rappresentazione decimale usando questo meccanismo. Ma non c'è nulla che dica che B debba valere 10. Quindi tutta l'informatica, tutta l'aritmetica binaria dei calcolatori è l'informatica in cui abbiamo scelto di mettere B uguale 2. Ok? Vale esattamente lo stesso meccanismo, vale esattamente la stessa formula, l'unica differenza è che le potenze coinvolte saranno potenze del 2 e non più potenze del 10. E di conseguenza le cifre disponibili non saranno più 9 cifre come i numeri dallo 0 al 9. Noi perché abbiamo i numeri dallo 0 al 9? Perché abbiamo 10 valori in totale. Dallo 0 al 9 compreso sono 10 valori, perché dopo il decimo scatta la decina e quindi non ti servono simboli aggiuntivi oltre a B simboli diversi. Ecco, nel caso della base 2 le cifre disponibili si riducono a due cifre disponibili che convenzionalmente possiamo chiamare 0 e 1. Ok? Quindi l'aritmetica binaria non solo è quella che lavora in base 2 ma è quella che ha bisogno solamente di due simboli, chiamiamoli 0 e 1 per poter lavorare. E quindi i numeri binari saranno qualcosa del tipo 101101. Quindi si scrivono come numeri decimali ma lavorando in base 2, 1, le riconosco dal fatto che ci possono essere solamente 0 e 1 tra le cifre. E 2, beh, se dovessi leggere quanto vale questo valore posso applicare la stessa formula di prima. E se io provassi ad applicare questa formula a questo numero che ho appena scritto cosa salta fuori? Beh, innanzitutto il valore di i sulle varie cifre sarebbe 0, 1, 2, 3, 4, 5 dell'indice della sommatoria, innumeriamo le cifre sempre a partire da 0. Le cifre del numero effettivamente sarebbero gli A con I e B elevato I, a questo punto sarebbero B, B vale 2, B elevato I sarebbero nel corrispondente di 0, 2 alla 0 che fa 1, nel corrispondente di 1, 2 alla 1 che fa 2, nel corrispondente di I uguale 2, 2 alla 2 che fa 4, siamo sempre 2 alla I, 2 alla terza fa 8, 2 alla quarta fa 16, 2 alla quinta fa 32. Allora cosa mi dice la formuletta? Mi dice, numera le tue cifre, da destra verso sinistra partendo da 0, vedi quali sono le potenze del 2, della base corrispondente alle cifre, e poi fai i prodotti cifra per potenza, cifra per potenza, erano due unità, 5 decine, 2 centinaia, qui sono una unità che fa 1, 1 per 1 fa 1, 0 per 2 fa 0, sto moltiplicando la cifra A con I per la base, per la potenza B con I, quindi la cifra B con 1 è 0, la potenza, la cifra A con 1 è 0, la potenza B alla 1 è 2, 0 per 2 fa 0. Quella successiva con I uguale 2 avrò 1 per 4 che fa 4, 1 per 8 che fa 8, 0 per 16 che fa 0, 1 per 32 che fa 32. Questi numeri vanno sommati perché sono sotto un segno di sommatoria. E il valore totale cosa fa? 32 più 8, 40, 44, 45. Inventandocene uno. Quindi, che operazione ho appena fatto? Ho preso un numero che era rappresentato in base 2 e l'ho in qualche modo convertito nello stesso numero rappresentato in base 10, perché ho fatto dei conticini con la mia aritmetica della base 10, quando ho scritto che 2 alla quinta è 32, quel 32 lì è un numero già espresso in decimale. Se l'avessi espresso in binario sarebbe 1, 0, 0, 0, 0, il 32. Il numero è sempre lo stesso, no? Se mettessi 45 palline in un sacchetto, quello è il numero. Poi lo posso rappresentare scrivendo 4, 5 e posso rappresentarlo scrivendo 1, 0, 1, 1, 0, 1 se così decido di fare. È mia la scelta della rappresentazione di un valore che è indipendente dal valore vero del numero stesso, che si può poi rappresentare in modi diversi. È un po' come dire, misuriamo la temperatura in Celsius o in Fahrenheit, uso metodi diversi per rappresentarla, ma alla fine la temperatura è sempre la stessa. Nei calcolatori ovviamente è sempre vero B uguale 2 e il meccanismo di lettura, di codifica dei numeri è lo stesso che usiamo in base 10 e di conseguenza vedremo che anche il meccanismo con cui fare i calcoli, la aritmetica, alla fine sono molto simili a quelli della base 10. Questo è un esempio più semplice di quello che abbiamo già fatto che ci ricorda appunto, se io vedo un numero espresso in base 2 a volte, a volte, quando mi ricordo, lo indichiamo da un piccolo pedice dicendo guarda che questo è in base 2, per sapere qual è il suo valore effettivamente non farò altro che sommare 1 per 2 alla 0 più 0 per 2 alla 1 più 1 per 2 alla 2. Parto sempre da destra ovviamente perché conto da 0 in avanti e mi dà un valore corrispondente in base 10. E quindi se applico questo meccanismo, io qua ho provato a mettere una tabellina in cui conto 1, 2, 3, 4, 5 fino a 15 in base 2, oltre che in base 10, queste due colonne di sinistra ci fanno vedere la rappresentazione in base 2 dei primi numeri interi. E non c'è nulla di speciale, cioè prendiamo in uno a caso questo qui, questo qui cos'è? 8 più 2 più 1. Alla fine, soprattutto quando ho i numeri piccoli, le potenze del 2 le vedo a occhio, quali sono? Su 4 bit le potenze i due saranno 1, 2, 4 e 8. E quindi qua io vedo che ho ovviamente nella sommatoria ciò che conta dove ci sono gli uni, perché dove ci sono i zeri si moltiplica per 0 e quindi non lo vado a vedere. Quindi in pratica se lavoriamo rapidamente, questo numero è 8 più 2 più 1. Quest'altro numero è 8 più 4 più 1. C'è il valore della potenza del 2 corrispondente alla posizione in cui si trovano gli uni, le sue cifre pari a 1. Poi se volete scrivete la sommatoria per esteso, ma su numeri piccoli basta direttamente trovare quali sono le potenze e sommarle. Ovviamente avendo meno cifre disponibili, solo 0 e 1, dovrò aspettarmi che i numeri che scrivo siano più lunghi. Cioè vedete che per scrivere 15 mi servono 4 cifre, mentre invece in base 10 me ne basterebbero 2. Quindi avrò dei numeri che occupano più spazio sul quaderno, per capirci, a parità di valore, perché uso dei simboli più semplici. Simboli più semplici che però all'interno del calcolatore, come vedremo settimana prossima, invece si riescono però a miniaturizzare molto di più che non eventuali cifre decimali. E infatti ci si abitua abbastanza in fretta a conoscere e imparare le principali potenze del 2, ma questa tabellina di destra non è che ce la dobbiamo imparare a memoria, no? Semplicemente dopo un po' la si usa e la si trova comoda. E in particolare un valore interessante è questo, in cui 2 alla 10 è circa uguale a 1000, con un errore trascurabile del 2%, del 2,4%. Questo valore lo chiamiamo K. Quindi quando sentite parlare di kilobyte, di megabyte, di gigabyte, terabyte, eccetera, eccetera, si usa un fattore moltiplicativo, chilo, mega, giga, quindi sarebbero normalmente 10 alla terza, 10 alla quinta, 10 alla sesta, 10 alla nona, eccetera, nel sistema internazionale, beh in informatica si usa un chilo che non vale 1000 ma vale 1024, si usa, cioè 2 alla 10, si usa un mega che non vale un milione ma vale 2 alla 20, che è circa uguale con un errore del 4%, si usa un giga che non è 10 alla 9 ma 2 alla 30, che è circa uguale a un miliardo con un errore del 7-8%, naturalmente l'errore aumenta ma non che andiamo avanti con le potenze, ma sono comunque errori che teniamo sotto controllo per facilità mentale. Tra l'altro, quindi questo ci permette di capire che questa potenza del 2 mi dice anche quante cifre binarie mi servono per scrivere un numero, se ti dico un numero che è fino a 10 alla sesta, cioè più piccolo di un milione, sai che mi servono 6 cifre per scrivere, 10 alla sesta sarebbe già la settima cifra, se scrivi un milione è 1 seguito da 6 zeri. 2 alla quinta vuol dire che mi servono, i numeri che arrivano fino a 2 alla quinta si scriveranno con 5 cifre binarie, 5 bit come li chiamiamo in forma abbreviata, i numeri fino a 32 mila che corrisponde a 2 alla 15 richiedono 15 bit per poter essere scritti. Quindi qua ci dà anche un'idea di quanto spazio occupano, quanti bit servono per rappresentare i numeri in funzione del loro valore. Questa uguaglianza mi dice che mi servono 10 bit per rappresentare il mille, quindi ogni 3 cifre decimali mi serviranno 10 cifre binarie, 3 cifre decimali perché il mille occupa 3 cifre, a 3 posizioni. Quindi se io trovassi per strada così un numero che è 17 milioni e qualcosa, dicono quanti bit si servono per rappresentarlo in binario, senza fare i conti se sono dei milioni, sono 10 alla sesta, sono 2 volte 3 e quindi sarà 2 volte 10 cifre binarie, quindi mi serviranno 20 bit più un po' perché erano 17 milioni, 17 ricaderà più o meno qua, altri 4-5 bit in più, poi dipende dai calcolini precisi ovviamente. Però a occhi, diciamo così, dico una parola brutta, ingegneristicamente, avendo questo riferimento uno riesce già a capire quali sono gli ordini di grandezza con cui andrà a lavorare. Poi quando deve fare i conticini semplicemente applica la definizione, quindi se mi danno un numero naturale scritto in binario e voglio convertirlo in un numero decimale, applico la formuletta che abbiamo visto prima. 1, 1, 0, 1, 8 più 4 più 1. 8 perché 2 alla terza, 4 perché 2 alla seconda, 1 perché 2 alla 0 e 2 alla 1 non lo metto perché viene moltiplicato per 0. Questo termine qua, che qua nell'espressione della sommatoria è stato scritto per pedanteria, in pratica essendo a 0 lo saltiamo direttamente. Quindi 8, 4, 12 è 1, 13. Questo fa 13. Quindi è facile, dato un numero binario di una qualunque lunghezza, calcolare e convertirlo nel corrispettivo decimale. un po' diverso è il contrario. Cioè cosa succederebbe se uno mi dicesse c'è un numero 13 e scrivemelo in binario? Vabbè, questo è già fatto sulle slide, non ci dà nessuna soddisfazione. Diciamo 18, che di buon augurio, no? Da lì in su. Se mi chiedono, ma come si rappresenta in binario il numero 18? Allora ci sono due modi per convertire un numero decimale in un numero binario, ci sono 100 come sempre, ma due quelli che voglio citarvi qua. Uno è, a occhio, alla fine che cos'è un numero binario? Una somma di potenze di 2. Allora riesco a scomporre 18 in una somma di potenze di 2? 16 più 2. A occhio. 16 più 2. Cioè 16 è 2 alla quarta e 2 è 2 alla prima. Il che vuol dire che il mio numero binario avrà 0 per 2 alla seconda, 1 per 2 alla prima, 0 per 2 alla seconda, 0 per 2 alla terza, 1 per 2 alla quarta e basta. Non è un gioco di magia, eh? Quello che faccio è andare a cercare qual è la potenza del 2 più grande che sta dentro il mio numero e quella ce la metto. Ovviamente 18 ci sta il 16, non ci sta il 32, quindi la potenza del 2 più grande è 16. 18 meno 16 fa 2, 2 e ha già una potenza di 2 e quindi mi sono fermato, altrimenti dovrei a sua volta decomporlo. Se avessi l'altro numero, sempre che porta bene, che è 30, proviamo a fare lo stesso giochino, qual è la potenza del 2 più grande che sta dentro il 30? Beh, 32 è troppo, è sempre 16. Più? Più quanto? Più 14. Giusto? 16 più 14. Ma al posto di 14 dobbiamo scomporlo a sua volta in potenza di 2. Allora, qual è la potenza del 2 più grande che sta dentro il 14? 8 perché il 16 non ci sta. Allora, cancelliamo 14 e mettiamo 14 e lo scompongo in 8 più 6. A sua volta 6 lo devo decomporre in potenza di 2. Qual è la potenza di 2 più grande del 6? che sta dentro il 6, il 4. Quindi il 6 lo decompongo in 4 più quel che resta che è 2. e che è già una potenza di 2, quindi mi fermo lì. Quindi anche qua avrò un valore che è 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 3, 2 alla 4. 2 alla 4, 2 alla 3, 2 alla 2, 2 alla 1, 2 alla 0. Questo è un metodo, facendo i conti a mano, a me pare quello più veloce. È anche quello che mi permette di tenere sotto controllo i passaggi e facilmente controllare i conti. Poi c'è l'altro metodo, che era quello suggerito sulla slide, che è un pochino più sistematico e dice prendi 18, partiamo dal 18, e dividilo per 2 tante volte fino a quando non arrivi a 0 e segnati i resti delle divisioni. Quindi 18 diviso 2 fa 9 con il resto di 0. Sotto ho i resti. 9 diviso 2 fa 4 con il resto di 1. 4 diviso 2 fa 2 con il resto di 0. 2 diviso 2 fa 1 con il resto di 0. 1 diviso 2 fa 0 con il resto di 1. Ok? Quindi prendo un numero e lo divido per 2 ogni volta. Fino a quando ovviamente arriverò a 0. Divisione intera, no? Non mi porto dietro i decimali. E ad ogni giro di divisione mi salvo il valore del resto. Mi scrivo il valore del resto di quella divisione. I resti poi li leggo al contrario, quindi leggi dal fondo e ottengo 1, 0, 0, 1, 0. No, l'ultimo resto che mi è uscito è il primo numero. Il primo resto che mi era uscito rappresenta le unità. quindi questa macchinetta di divisioni successive per 2 mi genera ad ogni giro un resto e questo ogni resto è di fatto una cifra decimale del numero binario, una cifra binaria del numero che sto convertendo. la prima cifra che mi viene emessa da questo meccanismo è la cifra delle unità. Le cifre successive sono le cifre delle potenze di 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 3, eccetera. Ok? E alla fine mi trovo il numero già scritto qua semplicemente scritto al contrario, quindi devo rovesciare i bit, devo fare una versione speculare. Partendo dall'ultimo, arrivare al primo. E la stessa cosa succede col 30, eh? Se io partissi da 30 anziché da 18 ho 15 con il resto di 0 15 diviso 2 fa 7 con il resto di 1 7 diviso 2 fa 3 con il resto di 1 3 diviso 2 fa 1 con il resto di 1 1 diviso 2 fa 0 con il resto di 1 e quindi ottengo, leggo questo numero contrario 4 volte 1 e poi 0 ovviamente il risultato è lo stesso rispetto a prima. Quindi questa macchinetta qua si pensa meno semplicemente si fanno i conti e poi ti trovi il numero scritto l'altra parte se la pensate un po' di più ma sono equivalenti. Col metodo di sopra parto dalla potenza più grande dal bit più alto col metodo di sotto parto dal bit più basso cioè di fatto quello che sto facendo qua è chiedermi 30 è un numero pari se è pari finisce per 0 se non è pari finisce per 1 e poi divido per metà e mi chiedo la metà di 30 è un numero pari e a sua volta mi chiedo se la metà di 30 finisce per 0 finisce per 1 sto facendo questo giochino qua mentre prima ragiono sulle potenze qual è la potenza più grande che sotto invece mi chiedo qual è la potenza più piccola c'è il 2 alla 0 sì o no? e vado a generare di bit alla fine sono meccanismi assolutamente analoghi e ci permettono in qualunque momento ci serva di passare da un qualunque numero intero, positivo, decimale a un numero corrispondente binario che abbia lo stesso valore ovviamente se noi facciamo i calcoli su un foglio di carta non ci preoccupiamo di quante cifre ci servono di quanti bit ci servono per rappresentare un numero però noi questi bit non li faremo sulla carta li metteremo dentro un computer quindi un computer avrà un numero fisso di caselle a disposizione di bit disponibili processore ha 32 bit processore 64 bit cosa vogliono dire? vuol dire che loro dentro lo vedremo meglio settimana prossima calcolano rappresentano i numeri e fanno i calcoli usando un certo numero fisso di bit e a seconda di quanti bit ho a disposizione potrò scrivere i numeri più o meno lunghi e quindi potrò rappresentare i valori più o meno grandi se avessi solo due bit potrei scrivere solamente i numeri da 0 a 3 se avessi due cifre decimali potrei scrivere i numeri da 0 a 99 ma con cifre binarie scrivo solo i numeri da 0 a 3 in generale se ho dei numeri binari espressi su n bit io potrò rappresentare tutti i numeri interi che vanno da 0 fino a 2 alla n meno 1 perché 2 alla n meno 1? ma vabbè perché se ho n bit ciascuno di questi può valere 0 o 1 il numero di combinazioni diverse che posso avere è 2 alla n e perché una di queste combinazioni vale 0 la combinazione a cui attribuirò il valore più alto sarà 2 alla n meno 1 è un po' come dire ho 10 combinazioni quanto valgono dallo 0 al 9 ho due cifre decimali decimali da 0 a 99 99 cos'è? 100 meno 1 10 alla 2 meno 1 ok? quindi sapendo quanti cifre ho a disposizione so quali numeri potrò rappresentare ho bisogno di rappresentare numeri che vanno fino a 1000? beh mi serviranno 10 bit perché 2 alla 10 fa 1024 quindi su 10 bit rappresenterò i numeri tra 0 e 1023 ho bisogno di rappresentare numeri più grandi mi servono più bit altrimenti non ce lo faccio non posso rappresentarli tra l'altro il numero così per folklore il numero più grande rappresentabile se lo scrivesse in binario sarebbe di tutti i uni così come in decimale il numero più grande che posso rappresentare su 6 cifre è 999.999 ovvio riempie tutte le cifre col valore più alto che ho che è 1 poverino un bit da solo è povero di solito almeno almeno per riuscire a rappresentare qualche cosa rappresenterò gruppi di bit e il gruppo più semplice il multiplo più semplice del bit è per il nome di byte 8 bit quindi in un byte che contiene 8 bit potrò rappresentare i numeri che vanno da 0 fino a 2 alla 8 meno 1 cioè 255 quindi se il mio programma deve lavorare con numeri da 0 a 255 mi basta rappresentarli su 8 bit questo è ciò che fecero il creatore del codice ASCI per i caratteri quando si è accorso che 8 bit per 255 simboli ce n'era d'avanzo per per le esigenze di 50 anni fa oppure molto più probabilmente anche 8 bit sono pochi e quindi lavoro con delle parole di memoria di 2 byte 3 byte 4 byte 8 byte eccetera eccetera adesso è abbastanza normale che i nostri sistemi di calcolo siano tutti sistemi di calcolo a 64 bit o più partire dal cellulare che avete in tasca molto probabilmente sicuramente il computer che avete davanti e un 64 bit significa 8 byte cioè ogni dato che voi memorizzate dentro il calcolatore veniamo ad esempio sul python quando scrivete una variabile a uguale 3 quel numero 3 viene memorizzato in una parola di memoria una parola di memoria significa una sequenza di bit pari a 64 bit ovviamente i 64 bit per il 3 sono un pochino sprecatini perché sono tanti di 0 0 0 0 e poi 1 1 in fondo 2 più 1 3 però la dimensione è fissa vabbè questa è una terminologia semplicemente che dice che da una parola di una certa dimensione il bit meno significativo in inglese assume questa sigla che è poi la traduzione di bit meno significativo least significant bit e l'altro il bit più significativo significa quello associato alla potenza del 2 più grande ma non è altro che una definizione e qui ci sono alcuni esempi non ho scritto il 64 bit perché non mi stava a seconda di quanti bit ho a disposizione posso rappresentare un certo numero di simboli diversi che attribuiscono dei valori decimali da 0 fino a un certo valore massimo che non so su 32 bit vado sui 4 miliardi rotti o anche senza fare i conti io me ricordo tutti questi numerini qua ma che 32 bit valgono 4 miliardi è facile perché 32 è 30 più 2 30 è 10 più 10 più 10 1000 per 1000 per 1000 abbiamo detto che 2 alla 32 2 alla 30 è circa uguale a 10 alla terza 10 alla 3 per 3 scusate 1000 alla terza 2 alla 10 è circa 10 alla terza 2 alla 30 è 2 alla 10 al cubo e quindi è 10 alla terza al cubo quindi questo qua è un miliardo 10 alla 9 alla 9 e poi c'è 2 e 2 alla seconda vale 4 quindi sono 4 miliardi e rotti no? prima parlavamo di 64 bit opla 64 bit quanto vale 2 alla 64? è uguale a 2 alla 4 per 2 alla 60 2 alla 4 è 16 e 2 alla 60 è circa quindi mettiamoci un uguale mettiamoci un circa uguale 2 alla 60 sono 6 volte cioè la sesta potenza di 2 alla 10 e la sesta potenza di 10 alla terza fa 10 alla diciottesima non so chiamarlo questo numero però è grosso ha 18 19 20 cifre decimali ne ha 64 binarie ovviamente come ordini di grandezza no? è giusto anche al di là di saper fare i conticini sapersi orientare negli ordini di grandezza ok e quando abbiamo imparato i numeri cosa ci hanno insegnato a fare subito dopo? beh a fare le 4 operazioni noi quando ne impariamo 4 ne impariamo solo 2 somma e sottrazione ma il modo in cui si fanno le operazioni è uguale a quello che abbiamo imparato in base a 10 0 più 0 farà 0 0 più 1 fa 1 1 più 0 fa 1 e 1 più 1 farebbe 2 dicono ma in binario il 2 non c'è 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 così come 5 più 5 che farebbe 10 in decimale fa 0 col riporto di 1 cioè in binario il riporto dopo potevamo aspettarcelo non scatta al raggiungimento della decina ma scatta al raggiungimento del 2 quindi se io volessi fare un'operazione di somma di due numeri binari noi avevamo fatto prima il 18 e il 30 no? quanto fa 18 più 30? allora uso questi due perché li abbiamo già pronti li abbiamo già convertiti se mi li dessero in valore binario 18 abbiamo detto che è 10 0 1 0 quindi è 10 0 1 0 questa è la rappresentazione binaria del 18 e il 30 invece me lo ricordo perché erano tutti uni tra l'anno 0 finale allora torniamo in seconda elementare e ricordiamoci come si fanno le addizioni in colonna facendo attenzione al riporto che va scatta alla decina che vale 2 in realtà questa decina ok? allora 0 più 0 fa 0 parto da destra sempre per fare le addizioni 1 più 1 fa 2 cioè 0 col riporto di 1 e cos'è il riporto? è un'unità che vado a sommare che devo sommare alla cifra di peso superiore a questo punto ho la cifra di peso superiore in cui devo fare 0 più 1 ok più il riporto quindi sommerò tre valori i due valori che avevo già più l'eventuale riporto che ho su quella cifra 0 più 1 più 1 fa di nuovo 2 quindi di nuovo 0 col riporto di 1 è un po' monotono questo perché anche su questa cifra qua succede la stessa cosa 0 più 1 più il riporto fa 2 cioè 0 col riporto di 1 adesso qui cambia abbiamo 1 più 1 più 1 di riporto che farebbe 3 3 fa 1 con un riporto riporto cioè 2 più 1 il 2 lo porto in riporto la cifra successiva e l'1 mi rimane quindi 1 più 1 3 più 1 fa 3 cioè 1 col riporto di 1 e beh questo 1 si sommerà degli 0 che sono invisibili sono sottintesi 0 più 0 più 1 di riporto farà 1 che numero è questo allora contiamo le potenze del 2 1 no 2 4 8 16 16 32 16 più 32 6 più 2 8 48 ok fa 48 viene solo fare attenzione non perdersi perché poi magari le cifre sono tante abbiamo sommato due numeri di 6 bit abbiamo ottenuto un risultato di 7 bit perché? ma perché il valore della somma era maggiore del numero massimo che si poteva rappresentare su 6 bit che sarebbe 31 e allora mi servono almeno 7 bit che mi permetterebbero di rappresentare numeri fino a 63 no ho detto male avevo due numeri su 5 bit e il risultato mi è venuto fuori su 6 bit scusate ho scalato di 1 due numeri di 5 bit che possono rappresentare valori fino a 31 la somma è più grande di 31 infatti il risultato mi è uscito fuori su 6 bit che può essere un problema oppure no nel senso che se nel mio computer avessi delle parole da 5 bit il sesto dove lo metto quello che esce fuori dalla somma infatti questo è un problema che dobbiamo affrontare e ha un nome e prende il nome di overflow se io faccio un'operazione tra due numeri questi due numeri vabbè se faccio questa operazione per definizione li ho rappresentati quindi li conosco li posso rappresentare all'interno della dimensione di parola di memoria che ho quindi se ho un computer a 8 bit non esistono più ma fa lo stesso ho due numeri che singolarmente sono rappresentabili su 8 bit ma la loro somma potrebbe non esserlo allora quando io ho due numeri che sono rappresentabili in una certa dimensione di memoria ma la loro somma non lo è cosa succede? succede che il risultato dell'operazione viene sbagliato perché viene sbagliato? ma perché il risultato richiederebbe una cifra che non ho facciamo un esempio più piccolo se io avessi un computer per assurdo su 4 bit e volessi sommare questi due numeri facciamolo facile è 12 più 8 ma non ci importa che sia 12 più 8 non siamo obbligati a pensare in decimale se faccio la somma di questi numeri avrò 0 0 1 1 e basta cioè basta basta un po' qui avrai un 1 di riporto che non so dove mettere perché se il mio computer ha 4 bit avrà 4 caselline in cui mettere il risultato e non ne ha 5 quindi questo qui non so dove metterlo questo riporto in uscita dal bit più significativo non esiste il computer lo calcola ma non lo può salvare allora se io vado a vedere il risultato di questa operazione in decimale ci sarebbe scritto che ho fatto 12 più 8 uguale 12 che non è proprio giusto no scusate ditemelo che sbaglio questo è un 0 infatti non mi tornavano i conti 1 più 1 fa 0 con il riporto di 1 12 più 8 uguale a 4 cioè no sarebbe 20 cioè sarebbe questo 4 più il 16 che c'è lassù questo vale 16 quell'1 ma non ce l'ho non lo posso mettere quindi questa è una condizione che appunto viene definita condizione di overflow in italiano l'overflow sarebbe la tracimazione cioè quando tu versi troppo acqua di un bicchiere e ti esce fuori tracima va oltre il limite perché hai cercato di mettere in un contenitore un valore più grande di quello che può contenere allora anziché bagnare il tavolo i numeri binari semplicemente ti danno un valore che è sbagliato alla fine degli uni degli zeri saltano fuori quelli che saltano fuori non sono quelli che rappresentano il valore vero del numero di fatto fanno un'operazione modulo 16 in questo caso modulo 2ln ma non ci interessa quindi si può verificare una condizione di overflow quando faccio una somma tra due numeri e il risultato non è rappresentabile con lo stesso numero di bit nei quali erano rappresentati i due operandi me ne accorgo perché se osservo l'esecuzione dell'operazione osservo che avrò una cifra un riporto in uscita che non sono riuscito ad assorbire nelle somme successive questa è una aritmetica finita nel caso precedente abbiamo lavorato con una aritmetica infinita mi serve un bit in più e vabbè c'è spazio sul foglio e lo scrivo e in quel caso si comporta come la aritmetica decimale a cui siamo abituati il calcolatore però lavora su una aritmetica finita saranno 64 bit quindi 10 alla 18 però comunque finiscono a un certo punto e quindi valori più grandi di un certo valore le operazioni il cui risultato sia maggiore del massimo valore rappresentabile non sono calcolabili lo stesso analogo ragionamento potremmo fare sulla sottrazione che anche qua la sottrazione funziona come funzionava in decimale proviamo a fare una sottrazione tra questi due numeri me lo faccio su un foglio bianco questo è 9 meno 6 ok quindi prendiamo un foglio bianco facciamo 9 meno 6 allora 0 meno 0 farà 0 1 meno 1 fa 0 1 meno 0 fa 1 e non mi dà problemi 0 meno 1 è l'unico caso particolare 0 meno 1 non si può fare dicevamo in seconda elementare in realtà lo posso fare prendendo a prestito una decina dalla cifra alla mia sinistra qui ovviamente non sarà una decina ma sarà un 2 quindi prendere un prestito significa prenderne 1 dalla cifra alla mia sinistra che a casa mia vale 2 quello che facevamo quando prendevamo i prestiti era questa operazione qua sottraggo una decina per avere 10 unità sottraggo un centinaio per avere 10 decine e così via sottraggo 1 da una cifra che pesa più di me lo porto a casa mia e questo vale automaticamente 2 volte o 10 volte o quante sia la base allora avendo fatto questa operazione che ha somma 0 alimeticamente perché meno 1 per 2 alla terza meno 1 per 2 alla seconda più 2 per 2 alla prima fa 0 non abbiamo alterato il numero ma a questo punto riusciamo a fare questa operazione su questa colonna 0 più 2 meno 1 che fa 1 in questo caso ho preso un prestito in inglese lo chiamiamo borrow quest'altro 0 meno 1 meno 1 aspetta un attimo siamo ancora più nelle grani di prima perché devo fare 0 ne ho 0 devo sottrarre 2 volte allora anche qua dovrò ricorrere un prestito prendo un prestito di qua che a casa mia vale 2 adesso l'operazione che dovrò fare sarà quella di fare 0 più i 2 che ho preso meno l'1 che devo togliere meno l'1 che devo in debito al prestito della cifra precedente che fa 0 2 meno 1 meno 1 fa 0 qua che cosa avrò 1 meno 0 e poi devo ripagare il prestito meno 1 1 meno 0 meno 1 0 tranquillo e infatti 9 meno 6 fa proprio 3 quindi anche qui nulla di nuovo basta solo abituarsi che il prestito vale 2 e non vale 10 ma le operazioni avvengono nello stesso modo e anche qua si può verificare una condizione di overflow quando solo quando il risultato è negativo sarebbe negativo perché attenzione è una sottrazione è una sottrazione tra due numeri che ho rappresentato quindi il risultato della sottrazione non può che essere minore del primo e quindi se il primo era rappresentabile su 4 bit a maggior ragione il risultato lo sarà perché è minore quindi non mi dà problemi non rischio di superare il valore massimo però rischio di superare il valore minimo se io infatti provassi a fare 6 meno 9 c'è gli stessi numeri ma li sottrago al contrario il risultato farebbe meno 3 ma nella rappresentazione di numeri binari meno 3 non sappiamo scrivere così che non sappiamo scrivere numeri più grandi di 16 su 4 bit è al di fuori dell'intervallo della rappresentazione che va da 0 a 2ln-1 allora però la rappresentazione si può fare 0-1 richiede un prestito quindi ho 2 meno 1 di qua 2-1 fa 1 qui 1-1 vanno in pari fa 0 qui 1-0 mi dà 1 tranquillo 0-1 prende un prestito e mi dà come risultato 1 e quindi avrei scritto che 6-9 fa 13 che ovviamente è un po' falso anche qua ho una condizione di overflow perché ho preso un prestito senza restituirlo guarda caso quel meno 1 lì vale meno 16 se tu facessi 13 meno 16 avresti meno 3 che è il risultato giusto ah non ce l'hai quel meno 16 quindi anche in caso di una sottrazione è possibile che il risultato dia un valore errato per causa dell'overflow ma questo succede solamente se non mi ricordo più se si dice che minuendo è più grande sottraendo o viceversa non ho mai capito quale dei due devono chiamarli in modo diverso comunque se il risultato salterebbe fuori negativo e questo se vogliamo sono le due operazioni di base sui numeri positivi ripercorrendo diciamo così le nostre scuole elementari noi qui arriviamo alle scuole medie e cominciamo a pensare anche i numeri negativi noi sappiamo che i numeri gli int possono anche essere negativi e l'int è proprio la rappresentazione che viene usata questa rappresentazione è proprio quella che viene usata quando scriviamo un int come si possono presentare i numeri relativi quindi positivi o negativi all'interno del calcolatore beh la prima cosa che ci potrebbe venire in mente è copiare anche qua ciò che facciamo in base 10 in base 10 cosa facciamo davanti al numero ci mettiamo un segno un più un meno allora noi potremmo decidere di fare la stessa cosa anche in binario dicendo io ho 64 bit non ho da vendere mettiamoli da parte 1 e quello lì lo usiamo per rappresentare il segno se è 0 sarà positivo se è 1 sarà negativo gli altri 63 li userò per rappresentare il valore rappresentazione chiamata modulo cioè valore assoluto e segno in cui separo il valore assoluto del numero del suo segno che è quello che facciamo in decimale quindi in questo caso se ho n bit 8 bit userò un bit per il segno 7 bit per il valore assoluto dove per convenzione il segno positivo è 0 usa la rappresentazione 0 e 1 è il segno negativo quindi se mi dicessero che ho un numero così su 4 bit la rappresentazione binaria che è quello che adesso in avanti chiamerò binario puro cioè la formula della rappresentazione binaria semplice senza nessun orpello mi direbbe che questo sono 8 più 2 è 10 ma se mi dicono che questo è un modulo e segno modulo e segno allora li separo qua questi numeri dove l'1 mi indica segno negativo e 0 1 0 mi indica il valore 2 cioè i bit sono sempre gli stessi però mi dicono guarda che devi usare una regola diversa per capirli per leggerli il bit più significativo non ha più valore di bit più significativo ma ha valore di bit di segno se è 0 segno positivo se è 1 segno negativo i restanti di bit invece li leggi come se fossero in binario puro però ovviamente hai un bit in meno perché uno l'hai usato per il segno e quindi per rappresentare i valori assoluti hai meno bit quindi rappresenterai la metà dei valori assoluti possibili perché hai un bit in meno e qui ci sono alcuni esempi tra l'altro c'è un'anomalia del fatto che il valore 0 si può rappresentare sia come 0 col più davanti che come valore 0 col meno davanti ma questa è un'anomalia che abbiamo già in base 10 questa è un'anomalia che sembrerebbe più intuitiva perché è più simile a ciò che facciamo in base 10 in realtà è un gran casino è la prima rappresentazione che storicamente hanno provato a implementare nei calcolatori ma poi si sono accorti che le operazioni sono complicate noi non ci pensiamo più perché ormai ci hanno fatto il lavaggio del cervello ma quando dobbiamo sommare due numeri non è mai una somma è un viaggio andiamo a vedere se questi numeri sono tutti e due positivi o sono tutti e due negativi allora ci sono tutti e due dello stesso segno e dovrò sommare i valori assoluti e metterci poi davanti il segno del risultato uguale al segno degli addendi se invece per caso fossero di segno opposto allora non devo fare una somma ma devo fare una differenza questo è che facciamo tutte le volte quando sommiamo due numeri relativi la differenza tra il numero tra i valori assoluti e i due numeri partendo da quello che ha il valore assoluto più alto e il segno del risultato qual è? il segno del risultato è il segno del numero di cui il valore assoluto era maggiore lo facciamo ormai siamo abituati però capite che non è proprio un procedimento lineare essendo un procedimento più complesso che qua ho cercato di assumere in pezzettini in termini di valore assoluto ma manca ancora una tabellina analoga per il segno rallenta l'operazione cioè fare una somma in questa rappresentazione modulo e segno è molto più lenta che non fare la somma dei numeri interi positivi come le facevamo un attimo fa allora qui ci torno cosa hanno fatto quelli più intelligenti di noi tanti anni fa si sono inventati una rappresentazione binaria diversa che fosse più comoda per fare operazioni ritmetiche sui numeri relativi e allora sono partiti da un ordinamento molto semplice se ho un numero positivo come faccio a farlo diventare negativo o lo moltiplico per meno 1 o gli sommo un valore negativo il modulo e segno moltiplica per meno 1 il meno davanti è la moltiplicazione ed è quello che incasina tutto perché sto moltiplicando per un negativo l'altra rappresentazione che invece è quella che si usa sempre è la cosiddetta rappresentazione in complemento a 2 non vi spiego il perché si chiama così ma è una rappresentazione nella quale c'è una sola regola il bit più significativo ha un peso negativo meno meno basta tutto il resto è uguale al binario semplice al binario puro allora cosa capita capita che se questo bit più significativo vale 0 come in questa figura 0 per quello che voglio fa sempre 0 e quindi il resto del numero si comporta esattamente come i numeri positivi che conoscevamo se questo invece valesse 1 ci fosse un 1 scritto qua allora noi faremo la somma di questi numeri con il solito metro della formula etta la somma delle potenze del 2 e poi ci metteremo sopra un meno 128 quindi qualunque numero positivo mi sia venuto dalla somma dei bit meno significativi poi ci sommo anzi ci tolgo un bel 128 e il valore complessivo diventerà necessariamente negativo necessariamente negativo perché il numero più grande che posso rappresentare su tutti gli altri bit è 127 2 alla 7 meno 1 quindi insomma meno 128 di sicuro il risultato è negativo quindi per far diventare un numero negativo semplicemente rappresento un numero positivo e poi sottraggo una costante la sottraggo o non la sottraggo a seconda che qua metta 0,1 nel bit più significativo che uso sempre come bit per rappresentare il segno ma poi lo uso in modo diverso non inverto il segno del numero ma sommo una costante negativa ad esempio ci danno questo numero e ci dicono guarda che questo è un numero rappresentato in complemento a 2 quanto vale? allora anche qua poiché parliamo di numeri relativi separiamo il segno dal resto del numero che non posso più chiamare valore assoluto perché non è più il valore assoluto del numero la parte positiva diciamo e questo quanto vale? beh questo vale 1 4 8 quindi questa parte qui da qui a qui vale 13 giusto? l'uno davanti si è rappresentato in complemento a 2 va moltiplicato normalmente la potenza sarebbe 32 16 l'abbiamo saltata 32 ma presa con segno meno meno 32 quindi l'unica differenza delle varie potenze del 2 l'ultima quella più a sinistra la prendo con segno meno se è moltiplicata per 0 non mi accorgo di nulla qua è moltiplicata per 1 e quindi mi sommerà meno 32 più 13 e si somma come è una sommatoria la stessa sommatoria che abbiamo visto nella prima slide di oggi né più né meno allora questo numero quanto varrà? varrà meno 32 più 13 e qua invece devo farmi i calcoli con l'aritmetica decimale con segno meno 32 più 3 fa meno 22 più ancora 3 dovrebbe fare meno 19 se ne hanno sbagliato i conti cosa molto probabile dimmi allora io devo sapere sempre a priori qual è la codifica che viene usata se ho dei bit sono nudi sono bit e basta per capire il valore numerico che ha una sequenza di bit qualcuno mi deve dire come sono codificati quindi se io vi avessi chiesto quanto vale questo numero senza avere il titolo scritto complemento 2 voi dovete dirmi non si può sapere dipende da com'è codificato ma no non sono equivalenti sono due numeri diversi sono interpretazioni diverse della stessa sequenza di bit che a seconda della codifica hanno valori numerici diversi quindi quando uno fa le operazioni cioè quando uno elabora un numero deve sempre sapere com'è codificato ok prima non si può capire dal numero poi una volta che so che è codificato in modulo e segno oppure in complemento 2 allora posso guardare il bit più significativo vedere se è 1 se è 0 capire se il numero è positivo o negativo se invece mi dicono che è codificato in binario semplice in binario puro sarà sempre positivo per definizione vabbè qui fa un po' di conti ma viene sempre meno 19 anche a lui quindi leggere un numero in complemento 2 è facile perché basta applicare lo stesso metodo del numero binario semplice con l'accortezza che il primo termine ha un peso negativo l'operazione inversa come la faccio? quindi prendiamo invece un numero e proviamo a scriverlo un numero decimale e proviamo a scriverlo in complemento 2 su 6 bit quindi in scrivo in complemento a 2 mi raccomando in 2 non a z su 6 bit scrivo due numeri più 15 perché anche i numeri positivi poverini possono essere rappresentati su 6 bit allora vorrà dire che io avrò a disposizione 6 bit di cui il bit più significativo essendo il numero positivo lo devo mettere a 0 perché? perché questo porterebbe un contributo di meno 2 alla quinta che non voglio se il numero che voglio ottenere è più 15 non devo avere quella zavorra negativa che mi farebbe diventare il numero negativo una volta sommato e quindi devo semplicemente rappresentare il 15 su 5 bit ma è facile no? 8 più 4 più 2 più 1 quindi ho 0 come bit di segno e 15 come parte positiva se invece di qua no? è un numero positivo rappresentato in complemento 2 poiché questo 2 alla quinta in realtà è un meno 2 alla quinta qualunque sia il valore di quel numero se il numero è positivo deve essere 0 e se fosse invece meno 15? allora anche qua ragioniamo nello stesso modo e anche qua ve lo faccio vedere in due modi diversi uno più intuitivo e l'altro più meccanico senza offesa per i meccanici ma qui non ce ne sono il risultato deve essere negativo quindi l'unica poiché tutte queste potenze sono tutte positive tranne una l'unica speranza che ho per rendere il numero negativo è metterci un bell'uno qua che mi dia un numero negativo da cui partiamo partiamo a ragionare da un meno 2 alla quinta cioè meno quanto fa? 32? a questo punto io meno 32 adesso è troppo basso è troppo negativo devo risalire fino a meno 15 quanti ne devo aggiungere al meno 32 per arrivare a meno 15? voi che siete più bravi di me dite 17 giusto? metto 2 per arrivare a 30 più 15 per arrivare a 15 no? quindi qua dentro devo mettere una combinazione di bit la cui somma valga più 17 perché? perché meno 32 ce l'ho già ma devo arrivare a meno 15 e quindi vado a vedere la differenza 17 cos'è? 16 più 1 no? no? quindi anche qua diciamo così direttamente si può scrivere il valore di un numero apprendato in complemento a 2 ragionando separatamente sul suo segno sulla sua zavorra sul suo termine negativo e ci permette di capire quanto deve valere il termine positivo per differenza rispetto al valore da rappresentare chi non vuole sforzarsi a fare sottrazioni tra numeri negativi a mente può usare un metodo più meccanico come dicevo prima che funziona così io parto quindi per ottenere la stessa cosa scrivo un numero negativo in complemento a 2 nel caso di un numero positivo non c'è niente da fare nel caso di un numero negativo voglio scrivere meno 15 voglio meno 15 allora parto con il primo passo a scrivere più 15 quindi scrivo l'equivalente positivo che guarda caso ce l'ho già qui sono stato estremamente previdente poi e qui agiamo senza pensare inverto i bit quindi dove c'era 0 metto 1 dove c'era 1 metto 0 e poi sommo 1 e quindi viene 1 1 tenendo conto dei riporti è una somma fatta però in questo caso dei riporti non ci sono perché 0 più 1 fa 1 senza riporti ecco il meno 15 questo qua che ovviamente è uguale a quello che abbiamo fatto di là no? quindi un altro modo per ottenere la rappresentazione in complemento a 2 di un numero negativo di cui conosciamo il valore decimale è quello di scrivere il valore il numero corrispondente positivo e poi fare questo gioco di magia inverto i bit e sommo 1 e viene sul perché viene vi dico solo che invertire i bit e sommare 1 sarebbe la stessa cosa che scrivere 0 meno x dove x è il numero positivo e quindi se attraendo da 0 ottengo un numero negativo con lo stesso valore assoluto ma operativamente si può anche fare così quindi sono due modi equivalenti anche qua potete usare chiaramente questo secondo è più sistematico se hai gli numeri più lunghi vai tranquillo vai sul sicuro nell'altro invece è più intuitivo devi ragionarci un attimo in più e noi ci siamo inventati noi no noi no ma ci sono inventati questi numeri in complemento 2 strani con una promessa no la promessa che le operazioni somma sottrazione in complemento 2 sarebbero state più facili rispetto al modulo di segno e in effetti è così quello che si scopre e non mi infliggo la dimostrazione ovviamente è che se ho dei numeri rappresentati in complemento 2 e li voglio sommare posso sommarli come sommerei due numeri in binario puro e se li voglio sottrarre posso sottrarli come sottrarrei due numeri in binario puro cioè se mi destra questa somma da fare e mi dicono questi sono due numeri in complemento 2 allora attenzione perché il primo è un numero positivo e il secondo è un numero negativo sto sommando due numeri di segno diverso il risultato il risultato potrebbe venire positivo negativo ma se fossimo in decimale cominceremo a pensare e invece complemento 2 ci dice senti tu fai finta di niente fai finta di non esserci stato negli ultimi 20 minuti da quando abbiamo cominciato a parlare di complemento 2 o di aver dormito magari qualcuno c'è che può fare questa prova se hai dormito negli ultimi 20 minuti vedi questa edizione qua uh che bello non ho fatto niente di nuovo negli ultimi 20 minuti io questa la so già fare applico la regola la regola dei binario puro la regola di somma che abbiamo fatto appunto tre quarti d'ora fa e quindi ti metti a fare la somma 0 più 1 fa 1 1 più 1 fa 0 con il riporto di 1 1 più 0 con il riporto di 1 fa 0 1 0 1 1 1 1 1 e viene fuori questa cosa ecco noi abbiamo fatto i conti usando la meccanica la logica dei riporti eccetera pensando al binario puro il risultato è giusto anche in complemento 2 questa è la proprietà chiave del complemento 2 per cui la si usa sempre se io ho un circuito elettronico che è capace a fare la somma in binario puro allora quello stesso circuito senza che gli debba insegnare nulla di nuovo saprà anche fare le somme e le sottrazioni in complemento 2 perché si fanno nello stesso modo è chiaro che gli addendi li interpreto in modo diverso il risultato lo interpreto in un modo diverso perché lo devo interpretare con la regola del complemento 2 e quindi sarà questi sono quanti bit sono questi 3 o sono 8 bit quindi sarà meno 128 più 64 più 32 più 16 più 1 se invece fosse in binario puro il risultato sarebbe più 128 più 64 più 32 più 16 più 1 ovvio se devo ragionare sul valore ma se devo semplicemente eseguire l'operazione non mi interessa quindi a differenza del modulo e segno in cui l'esecuzione delle operazioni è molto più complessa rispetto al binario puro in complemento 2 no e questo è il motivo per cui si usa sempre quando voi in python usate un int state definendo una variabile un valore perdon su 64 bit rappresentato in complemento 2 qui ci sono anche qualcuno più paziente di me aveva anche fatto i calcoli e idem per la sottrazione adesso non me la faccio ma è esattamente la stessa cosa di prima allora questi sono numeri sul numero fisso di bit e quindi anche qua ci dovremmo porre la domanda ma può verificarsi overflow la risposta è sì ma in un modo diverso allora prima di tutto pensiamo alla somma poi la sottrazione si fa ragionando sul segno invertendo il segno dell'altro per fare il ragionamento ma sulla somma se io sommo due numeri ricordiamoci overflow cosa vuol dire ho due numeri rappresentabili in n bit ma il risultato della loro somma non lo è più perché non lo è più perché è minore del valore minimo o è maggiore del valore massimo nel caso in cui abbia due operandi con un segno diverso e li sommi quindi sommo un numero positivo più un numero negativo il risultato sarà sempre compreso tra i due negativo più positivo mi dà un risultato che è più grande del negativo perché gli ho sommato qualcosa ma più piccolo del positivo perché gli ho sottratto qualcosa è sempre compreso e se i due valori che stavo sommando quello negativo e quello positivo erano rappresentabili allora a maggior ragione un numero compreso nel loro intervallo è rappresentabile quindi quando sommo numeri di segno opposto non ho mai overflow il risultato dell'operazione sarà sempre corretto la somma che ho fatto prima l'ho fatta tranquillo perché ero in uno di quei casi può capitare anche facendo queste somme a me non è capitato nell'esercizio che ho fatto ma potremmo farlo trovare dei casi in cui facendo la somma di due numeri di segno diverso mi venga fuori un riporto un riporto d'arbitio significativo nel caso del complemento 2 me ne frego nel caso del binario puro se avevo un riporto o un borro o un carry in uscita dal bit più significativo significava che avevo overflow nel caso del complemento 2 no quindi non mi devo preoccupare se vedo un riporto il risultato se i numeri che stavo sommando erano discordi è sempre giusto il problema si può verificare quando i numeri che sto sommando sono concordi quindi somma due numeri positivi o somma due numeri negativi allora anche qui può darsi che il risultato mi dia overflow e abbia un riporto oppure che mi dia overflow e non abbia un riporto oppure che non mi dia overflow con un riporto cioè sono completamente scorrelati da cosa mi accorgo che posso avere che ho una condizione di overflow nel caso di una somma di numeri con lo stesso segno quindi due positivi e due negativi me ne accorgo solo se il segno del risultato è sbagliato cioè se io sommo due numeri positivi il risultato deve essere positivo ma se la sequenza di bit inizia con un 1 quindi indica un numero negativo vuol dire che c'è stato un overflow se sommo due numeri negativi che quindi iniziano con 1 il risultato deve essere negativo io faccio la somma macchinetta guardo il bit più significativo se c'è uno 0 vuol dire che c'è stato overflow quindi il complemento 2 si legge in modo diverso si interpreta in modo diverso si calcola in modo identico al binario puro quindi insomma la faccio ragionando sui bit sui riporti come se fosse un numero positivi ma l'overflow si interpreta in modo diverso sul binario puro overflow vuol dire riporto in uscita dal bit più significativo sul complemento 2 overflow vuol dire i segni non mi tornano ho sommato due positivi mi è venuto un negativo ho sommato due negativi mi è venuto un positivo in tutti gli altri casi il risultato che ho ottenuto è corretto è giusto e quindi non sono uscito dai limiti della rappresentazione limiti della rappresentazione i quali però adesso siamo agli sgoccioli del tempo sono rappresentati da questa formuletta qua che poi non è tanto complicata da capire perché guardiamo la parte positiva la parte positiva mi dice che i numeri positivi che posso rappresentare in complemento 2 sono gli stessi che rappresenterei in binario puro con un bit in meno il binario puro è la 2 alla n-1 il valore massimo e qui non ho n bit non solo n-1 perché 1 lo sto usando per il segno e quindi avrò un numero massimo rappresentabile 2 alla n-1 meno 1 quindi la metà di quelli che avrei se fossero binari puro e dall'altra parte ho tutti i numeri negativi che possono arrivare qual è il numero più negativo che posso avere in binario in complemento 2 il numero più negativo che posso avere è questo 1 e tutti gli altri 0 no? l'unico coefficiente negativo lo prendo tutti quelli positivi non li prendo e quanto vale questo coefficiente? così meno 2 alla sua potenza che è n-1 avendo n bit ok? ok prossimo giro complichiamo ancora un pochino di più le cose andando a vedere anche cosa succede a livello dei float e non solamente degli int per oggi vi saluto ci vediamo mercoledì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti